Ciao a tutti, sono Giulia Matchboom24 e siamo tornati sul mio canale con un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi siamo qui con un nuovo episodio di Is It Love Matt, ovvero il 70. Un esepisodio. Allora, nello scorso video, l'episodio di Is It Love Matt, abbiamo in realtà fatto rattristare Matt perché lui ci aveva chiamato e ci aveva chiesto di uscire, dato che lui sarebbe tornato poi da Miami, solo che noi abbiamo rifiutato perché dopo quello che era successo con Daryl e che lui si era fin da Matt, non volevamo comunque altri appuntamenti per il momento, anche se a me personalmente mi è dispiaciuto troppo di chi di no. Ah, comunque dimenticavo, prima di andare avanti con la storia saluto Miriam e Valentina che mi hanno chiesto di essere salutate nello scorso video. Ciao a tutte e due e grazie per supportare questa serie. E niente, stavolta ve l'ho messa davvero la scaletta dei video che usciranno questa settimana perché nel video di ieri e quello di lunedì vi avevo detto che avrei messo la scaletta, invece non l'ho messa, quindi ottimo. E spero anche che la nuova intro e la nuova outro vi piacciano, se volete fatemelo sapere ma non è importante, insomma. Volevo cambiare un po' e niente, partiamo davvero perché voglio andare avanti con la storia. Vabbè, ci dice baci, baci. Come riaggancio alzo per un attimo gli occhi al cielo, ispirando piano e cercando di trattenere le lacrime. Ma se ti dispiace così tanto, potevi dirgli di sì, dai. Ho un disperato bisogno di qualche consiglio e so benissimo chi devo chiamare. Indovino, Lisa. Cerco il numero di Lisa, sperando che sia disponibile per una lunga chiacchierata. Pronto? Ehi, Lisa. Lisa sembra senza fiato e posso sentire dei rumori attorno a lei. Potrei giurare di aver sentito una specie di grugnito maschile. Ah, mi sa che non l'abbiamo trovata in una situazione troppo opportuna. E forse non è un buon momento? No, no, dimmi. La sento allontanarsi dal telefono per chiedere qualcosa a qualcuno. Con chi è passato la notte? Mi chiedo. Esatto. Ah, Daryl, mi ha immaginato, aiuto. Lisa, va tutto storto, ho bisogno di un consiglio. Ho bisogno di un consiglio, non siamo tragiche, dai. Ti sto chiamando perché ho bisogno di un tuo consiglio. Oh, aspetta, due secondi. Sento qualche strano rumore, una discussione e una porta a chiudersi. Eccoci qua, sono tutta tua, tesoro. Cosa c'è che non va? Dove iniziare? Ho fatto una stupidaggine. Dove iniziare? Non so neanche da dove cominciare. In questo caso cominciano all'inizio. La voce di Lisa è calma, attenta, è pronta a risollevarmi da terra. Sono quasi andata a letto con Daryl, ho confuso Daryl con Matt. Tutte e due in realtà. Vabbè, dicendo che ho confuso Daryl con Matt, penso che mano a mano arrivi proprio al punto. L'altra sera ho confuso Daryl con Matt e la serata è stata molto, molto ferma, ferma. Com'è possibile? Esatto, me lo chiedo. Sì, dai, spiega tutto dall'inizio. Beh, tutto è cominciato quando Matt mi ha chiamato per dirmi che sarebbe tornato prima. All'inizio ero sorpresa per via del concerto, ma ero così felice che non ci ho pensato troppo. E infatti non era Matt, ma Daryl. Ci siamo incontrati e abbiamo flirtato. Siamo tornati al mio appartamento e siamo quasi saliti. C'è silenzio dall'altro capo della linea. Lisa probabilmente sta cercando di riordinare le idee per capire cosa le sto dicendo. Non ho capito una cosa. Matt ti ha chiamata, ma è stato Daryl a venire all'appuntamento? No, è stato proprio Daryl a chiamarmi. Fingendosi Matt. Ho un gruppo in gola, vorrei piangere ma sto trattenendo le lacrime. Oh cavolo, ok, ho capito. E ora mi sento orribile. Ma non avevo intuito che non si trattasse di Matt? Beh, voglio dire, infatti è assurdo, non è che se sono gemelli sono uguali in tutto e per tutto. Comunque, Lisa, sono gemelli, le loro voci sono identiche. Daryl si è vestita come Matt ieri e io avevo questa congiuntività che mi impediva di vedere i dettagli. Ah già, pure. È finita l'energia, ma vado a fare le solite cose per guadagnare tutta l'energia. Questa volta ve le risparmio, perché nello scorso episodio, grazie ad un commento che avevo ricevuto, ero riuscito ad ottenere più energia del previsto, quindi adesso se tutto va bene dovrei riuscire ad averne altre 300. Ok, ho ottenuto 200 punti di energia, però in realtà ne ho 300 perché ho visto anche altre pubblicità. Andiamo avanti. Incredibile, ricordo che è capitato anche ad una mia amica. Beh, in realtà lei era consenziente, se capisci che intendo, ma davvero non hai notato nulla? Il profumo o l'atteggiamento? Direi l'atteggiamento perché, insomma, sicuramente si è comportato molto, cioè in modo molto diverso rispetto a Matt. Sicuramente è stato più, come si dice, più cattivo, ci ha urlato contro, vabbè. Beh, effettivamente l'ho trovato più diretto del solito, più esuberante. Ho pensato fosse dovuto alla nostra riunione. E poi cos'è successo? Abbiamo passato la serata al bar, abbiamo parlato, ci siamo baciati, e poi gli ho chiesto di venire a casa con me. Volevo di più, se capisci. Sento lì sempre i cari dall'altro lato del telefono. E non appena abbiamo messo piede nel mio palazzo siamo stati interrotti. Porca miseria, ma non hai davvero notato nulla nel modo in cui ti baciavo, ti tenevo tra le braccia? No, e quel che è peggio e che mi è piaciuto, te l'ho detto no. Nello scorso episodio abbiamo detto che in realtà c'era piaciuto baciare Daryl, quindi penso che lo dirò anche ora. No, e quel che è peggio è che mi è piaciuto molto. Ogni cosa era intensa fra noi, e lui mi ha fatto certe proposte indecenti. Wow, ma cosa è successo? Perché non siete andati fino in fondo? Un tizio, un gangster, non so, si è fermato di fronte a noi e ha minacciato Matt, cioè Daryl. Lui mi ha ordinato di tornare a casa mia, sostenendo che il tizio ce l'aveva con suo fratello e che sarebbe andato a sistemare la questione. Ok? Lo so, sembra assurdo. E non finisce qui. Che vuoi dire? Mi fermo per fare un respiro profondo, fissando l'unica cosa normale della mia vita, Kiko, che continua a curiosare innocentemente sul bordo dell'acqua. Quando ho capito cosa fosse successo, mi sono presentata a casa sua in preda alla rabbia. Cavolo, lo posso immaginare, spero tu gli abbia fatto passare l'inferno. Era quello che volevo fare, ma l'ho trovato accasciato a terra accanto alla piscina. È stato pestato. Oh, da chi? Il gangster? Sì, o da qualcuno che aveva a che fare con la gang. Comunque sia, l'ho aiutato ad andare nella sua stanza. La sua stanza? Dai, Giulia! Ma che ha capito? Era innocuo? Era davvero sexy. Era innocuo? Cioè, stava morendo per terra, non lo so io. Tranquillo, era totalmente innocuo. E comunque è meglio che non abbia provato a fare niente. Lisa tace, so esattamente a cosa sto pensando. E come ti senti rispetto a tutto quanto? Terribilmente male, completamente persa. Completamente persa. Mi sento totalmente persa, intendo. Ho davvero provato qualcosa dalle braccia di Daryl. C'era qualcosa di particolarmente intenso in tutta la sera. Aspetta, Giulia, non finirai per innamorarti di lui, vero? E comunque se hai sentito qualcosa è perché pensavi di essere con me. Esatto, quello che ho pensato anch'io, però vabbè. Sì, lo so, ma se ci fosse davvero qualcosa tra me e Daryl, ha ammesso di provare qualcosa per me. No, però io non la voglio far mettere con Daryl. Mi ha calato proprio in basso dopo sta cosa. Giulia, tesoro, guardiamo le cose dalla prospettiva giusta. Hai pensato anche solo per una volta a Daryl mentre eri, beh, tra quello che credevi, le braccia di Matt? No, no, scusa, stavi all'appuntamento con Matt? Che senso ha? Anche perché da quel momento in poi, cioè, lei non era innamorata di Daryl. Cioè, lei aspettava soltanto Matt, quindi da questo punto di vista no. No, certo che no. Spero, eh. Eccoti la risposta, tesoro. Smesti di torturarti, davvero bisogna smettere di farti problemi per ogni cosa del genere. Quindi quanto torna Matt? No, ma è finita già l'energia, ma come possibile? Ma... Niente. Comunque il prossimo video uscirà, non mi ricordo quando l'ho messo nella scaletta, però si vede all'inizio del video. Niente, questa storia mi sta incuriosendo molto. E spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, vi chiedo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale, attivando anche la campanellina delle notifiche, così da non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E detto questo, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti! Ciao a tutti!